Luigi Nervi, ingegnere, architetto, progettista di fama internazionale. Le sue numerose ardite realizzazioni hanno destato da molti anni l'interesse dei tecnici di tutto il mondo. Giornali e riviste hanno più volte richiamato l'attenzione del pubblico sulle sue opere. In questi ultimi anni ha contribuito in misura preeminente allo sviluppo delle attrezzature olimpiche di Roma, dove le costruzioni di Nervi con l'ardita estetica della loro funzionalità si ambientano perfettamente nella tradizione architettonica della città. Ecco il Palazzetto dello Sport, realizzato in collaborazione con l'architetto Vitellozzi. Lo stadio Flaminio, costruito sulla stessa area del vecchio stadio. Il Palazzo dello Sport con la più grande cupola del mondo. Ed infine il viadotto d'ingresso a Roma dalle strade del nord. Il Palazzo di Monti Il Palazzo di Monti